Nuove disposizioni dettate dal governatore De Luca nel weekend appena trascorso che dureranno per tutto il mese di agosto. Confermato l'utilizzo di mascherine anche all'aperto in ogni luogo non isolato come centri urbani, piazze e lungomari, in particolare nelle ore e situazioni di affollamento. Stesse regole per le file, le code, i mercati o fiere e altri eventi anche all'aperto nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto come traghetti, battelli e navi. L'ordinanza proroga le misure e le regole in scadenza relativi all'utilizzo di dispositivi di protezione individuali e alla vendita di alcol e aggiorna le direttive che scatteranno dal 6 agosto sul territorio nazionale le disposizioni relative agli spettacoli e ai controlli all'aeroporto di Napoli-Capodichino. Ritorna il divieto dalle 22 alle 6 del mattino di vendita con asporto di bevande alcoliche da parte di qualsiasi esercizio commerciale, compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub e vinerie, supermercati e con distributori automatici. Divieto anche di consumazione di bevande alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti e gli esercizi commerciali, piazze, ville e parchi comunali. Ai bar, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante. Nonché agli esercizi di ristorazione, la vendita di bevande alcoliche è consentita esclusivamente al banco e ai tavoli. Sono comunque vietati affollamenti e assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si intensificano inoltre i controlli alla movida. Sono consentiti gli spettacoli, i concerti e gli eventi pubblici ad aperto al pubblico, subordinato però alle definizioni e le adozioni da parte delle autorità competenti delle misure specifiche, idonee a scongiurare assembramenti pericolosi.